Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Settimo congresso regionale della Willa Marche, il sindacato della Willa dei lavoratori del settore agroalimentare. Un momento molto delicato per il settore, sia a livello nazionale che regionale. Quindi un momento di confronto e di riflessione per i lavoratori su questi aspetti. Abbiamo ascoltato alcuni dei referenti nazionali, regionali e territoriali della Willa. Ricogliamo questa occasione per rivolgere un ulteriore invito al governo. Bene il bonus da 200 euro che verrà erogato a tutti i lavoratori con meno di 35.000 euro di reddito, ma ci vuole di più. Bisogna tagliare le tasse sugli aumenti contrattuali, bisogna mettere nelle tasche delle persone soldi necessari ad evitare che il Paese vada in recessione. Forse per la prima volta abbiamo problemi comuni tra lavoratori e datori di lavoro, perché i lavoratori vedono falciata la propria busta paga dall'inflazione e i datori di lavoro vedono i loro margini, i loro profitti ridursi se non azzerarsi. Quindi per la prima volta forse dobbiamo discutere insieme e seriamente. Le specifiche difficoltà del settore ittico, sia dal punto di vista dei lavoratori che da quello originato dal caro gasolio, viene evidenziato dai referenti Willa del settore pesca. Il problema importante che attanaglia la pesca anconetana in primis è il caro gasolio, che sta mettendo proprio allo strego le famiglie dei marinai. È un settore veramente in crisi. Poi una cosa molto importante, anche a livello nazionale, è che abbiamo portato la CISO agricola anche nel settore della pesca. Però attualmente ancora non ci sono le condizioni come farla applicare. Dulcis in fundo il lavoro usurante è notturno, ma non è possibile che a questi lavoratori non venga riconosciuto il lavoro usurante. Credo che la pesca sia un settore affascinante perché comunque caratterizza tutte le nostre coste, ma allo stesso tempo necessita veramente di duro lavoro e dura fatica. Noi abbiamo aperto la segreteria lì al porto d'Ancona, nella marineria d'Ancona, poco più di un anno e mezzo fa e di lavoro so che ce ne sarà tanto. Undo